Diego Magandi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san Paolo Almanacco di bellezza 12 gennaio Piero Magandi, Leonardo Piccinini, Ido Foscari, Placido Domingo 2016 Teatro alla Scala, direttore il grande Mariotti e prima di iniziare a raccontare la vicenda, la vicenda dei Foscari la vera vicenda dei Foscari, noi vogliamo salutare degli spettatori di Parma se si parla di Verdi è come il cacio sui maccheroni, si parla di Parma e quindi noi salutiamo dei nostri appassionati telespettatori tra cui un giovane storico, già siamo felici, che si chiama Jacopo, come Foscari tra l'altro e con lui salutiamo Ginetta Donelli, Oreste e appunto il giovane Jacopo da Parma e adesso possiamo raccontare la vicenda che è in cima alle classifiche tra le questioni divisive della storia veneziana perché ci sono una serie di combinazioni che non finiscono mai di far bisticciare dei nomi stupendi della storia dogale beh sì, diciamo che è una vicenda abbastanza oscura per certi versi, è una vicenda mitica i casi in cui la Repubblica è stata messa a repentaglio sono rari però ci sono stati e soprattutto i casi di malversazione o di conflitto di interesse sono sempre stati sanzionati in questo caso il contributo da cui siamo partiti, cioè i due Foscari di Verdi tinge a una riabilitazione tra virgolette all'opera di Byron all'opera di Byron nel 1821, Byron che attraversava il Canal Grande a nuoto a nuoto anche tu l'hai fatto no? più volte più volte accompagnato da delle nutrie molto simpatiche sì, barricata aveva dei cedimenti, mi tenevano su e quindi avendo raccontato che Don Carlo che diventa un eroe grazie a Schiller e poi a Verdi era in realtà uno storpio, piuttosto antipatico poi probabilmente aveva anche un alito pestilenziale aveva anche la basletta in questo caso le vicende storiche sono molto diverse che cosa succede? succede che Jacopo Foscari, che è un nobile veneziano nato intorno al 1416 è morto a poco più di 40 anni ed è la ragione per cui ne prendiamo oggi in esilio a Creta, Candia, nella località di Canea si spegne appunto il 12 gennaio del 1457 allora lui era figlio di una Nani della Nani di Marina Nani e di Francesco Foscari quando lui viene al mondo suo padre Francesco è sugli scudi perché sta velocemente scalando i vertici della Serenissima e diventerà Doge sì grande corrispondenza con numerosi umanisti dell'epoca Poggio Bracciolini Leonardo Bruni insomma però non ha il talento del padre e nel 1423 quindi pochi anni dopo la sua nascita il padre diventa Doge figlio Jacopo frequenta svogliatamente il senato veneziano rimane l'unico figlio del Doge perché l'altro fratello Domenico se ne va purtroppo per la peste e il padre quindi riversa in lui tutte le attenzioni le speranze il sentimento di un uomo che era considerato molto duro con gli avversari ma un agnellino in famiglia era molto indulgente con la prole cosa che in Italia viene abbastanza spesso sì tu sei indulgente con la prole no io sono giusto no io credo di comportarmi con la mia prole come mi comporto con i miei amici ecco tu non fai parte di questa categoria però mi viene in mente un amministratore delegato di un'azienda automobilistica sì nel nord Italia un po' di anni fa che era molto duro nei confronti degli avversari no? e poi invece con la prole vabbè vabbè ma chi doveva capire ha capito l'apice dell'ostentazione arriva il 5 febbraio del 1441 perché? perché Jacopo sposa bellissimo Rome Lucrezia Contarini e quindi c'è un festeggiamento sontuoso ai limiti del Bauscia però gli scappa la mano gli scappa la mano perché lei viene accompagnata col Bucintoro a Palazzo Ducale e tutto questo fasto è eccessivo è eccessivo perché il bello dell'oligarchia veneziana è che sono tutti più o meno dovrebbero stare allo stesso livello cioè giochi tornei in piazza San Marco la festa dura due settimane peccato non esserci stati Leonardo quella piazza di tutti questa cerimonia privata di fatto diventa un evento pubblico e la potenza dello Stato viene confusa con la potenza dei famigliari è un destino un gran classico diciamo anche molto attuale cioè ci sono i cognati le sorelle ma non soltanto con questi no no anche prima però questi esagerano un po' si tiene sempre famiglia va bene il destino è in agguato perché siamo nel 1445 il consiglio dei dieci organo supremo presenti e non assenti si accusa Jacopo di essere colluso quindi il figlio del doge di essere colluso con principi di potenze stranieri nemiche che per Venezia era l'accusa peggiore perché Venezia attraeva proprio la sua forza dalla sua indipendenza fino all'ultimo lui capisce eh sì e gli dicono guarda che Duga Ming evidentemente era vero e quindi lui fugge a Trieste Trieste era imperiale e chiaramente quando uno fugge è subito in torto e il 20 febbraio i dieci lo condannano al bando perpetuo e all'esilio nel Peloponneso a Nauplia sì il doge e Dogaressa restano impietriti per le accuse al figlio cosa ti ha fatto Poareto e soprattutto per il violento attacco del consiglio dei dieci che è guidato in quel momento da Loredan tale Francesco sono quelli che dicono Loredan sì che era il nipote tra l'altro di Pietro il grande eroe di Gallipoli di Turchi Turchi e Francesco Foscari cosa pensa avendolo io sconfitto nell'elezione ducale del 438 parenti si vendicano contro di me perché lo sconfitto era poi morto misteriosamente probabilmente avvelenato sì il Loredan quindi insomma c'è tutta una ricca letteratura che si impadronisce della vicenda viene presentata come una vendetta attuata dai Loredan però se uno va a vedere poi i documenti si vede che in fondo questi dieci non sono stati troppo duri intransigenti avevano invitato il doge a persuadere il figlio a costituirsi promettendo un'indulgenza Leonardo passano dieci mesi in un'inerzia totale finché arriva la grazia e di fatto l'esilio dall'impero viene trasferito e va benissimo nel Trevigiano nel ferro si cadeva sempre in piedi era i domiciliari dalla famiglia Zalarino non si stava male era come i verdini no esatto ecco vedi sì a piante giullari poi arriva il perdono nel 1447 quindi sembra che l'incidente in qualche modo fosse rientrato ma la braccia come sempre cova sotto la cenere perché c'è un omicidio eccellente 1450 viene ucciso per mano ignota un magistrato del fisco Ermolao Donà ti piace il nome Ermolao? Ermolao io avevo pensato di chiamare uno degli animali ma siccome sono femmine Ermolao Moira Sofonisber del Gisa prossimo animale maschio che ci regalate che animale potrebbe essere Leonardo? Ermolao un castoro uno scogliattolo ah così semplice? sì Ermolao io volevo un tapiro invece eh ma il tapiro è impegnativo impegnativo va bene che cosa succede? morto Ermolao Donà le accuse subito cadono su Jacopo che evidentemente non doveva essere uno stinco di santo no anche se qui poi c'è il delatore sì che è Antonio Venier parente di Mara eh parente di quello che sarà il grande vincitore di Lepanto allora lui viene arrestato e inutilmente torturato così tanto per gradire i dieci sono convinti della sua colpevolezza ma non hanno una prova decisiva videatur non esse possibile extraere de ore suo illan veritatem pensa cosa intanto mentre dicono queste cose avevano dei pinzoni a dentro buoniam infune nec vocem nec gemitum emittit devo dire però bravo lui sì 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 non emette gemiti e quindi lo spediscono in esilio perpetuo appunto a Creta che oggi è una ridente località turistica e anche allora non era malaccio lui era lì con la moglie e i quattro figli ma fa un ennesimo errore sì sappiamo appunto delle sue illustri corrispondenze e in questo caso scrive a Francesco Sforza il signore di Milano nemico di Venezia nemico chiedendogli di intercedere per lui e sembra che addirittura abbia scomodato anche Maometto secondo che aveva appena conquistato Costantinopoli colpa grave questa è colpa grave e allora i dieci 1456 tra i cui c'è sempre un Loredan Giacomo lo convocano a Venezia lui ammette le sue colpe si becca la pena più lieve cioè di nuovo tornare a Creta in esilio e così insomma anche al padre viene consentito di visitarlo in prigione ma ormai Jacopo Foscari è un uomo finito e in seguito a questo esilio definitivo muore qualche mese più tardi e siamo appunto oggi il 12 gennaio 1457 posso dire una cosa Leonardo qualche mese dopo mi fa pensare che magari mentre gli facevano l'interrogatorio gli avrebbero detto vuole bere un tè un brodo a lento rilascio comunque il padre nell'autunno dello stesso anno dopo aver firmato l'esilio per sannumigliazione del figlio e aver subito l'onda della deposizione il padre firma l'esilio del figlio e poi viene deposto fa la stessa fine muore e il romanticismo di Byron e non solo si impadronisce avidamente della vicenda Lord Byron nel 21 dà le lettere il suo dramma per cui Francesco Maria Piave scrive il libretto su richiesta di Verdi e l'opera viene rappresentata a Roma nel teatro argentina il 3 novembre del 1844 ci piace dire che è un'opera che è stata non si può dire riscoperta però che negli ultimi 40 anni ha avuto molta fortuna e io penso alla direzione di Gianandrea Gavazzini della metà degli anni 80 per poi passare a prove anche più recenti molte scaligere non possiamo che congedarci con un grande artista sì beh diciamo nell'ottocento c'è una grande sensibilità per Venezia in Inghilterra abbiamo John Ruskin le pietre di Venezia Francia abbiamo Eugène de la Croix che raffigura la scena in un bellissimo dipinto e poi Hayez che sappiamo era un grande appassionato di storia e di opera e rappresenta il melodramma la scena madre per più di una volta 3 lo potete vedere alle gallerie d'Italia l'ultimo abboccamento di Jacopo Foscari con la famiglia lo potete vedere agli uffizi lo stesso soggetto e poi a Brea il doge destituito con questi quadri ci congediamo ricordando che oggi la disfida è tra grandi baritoni e grandi tenori e pensiamo al grandissimo Guelfi pensiamo a Brouson pensiamo a Nucci e pensiamo anche a Placido Domingo che nella sua trasformazione vocale appunto alla scala è stato Doge Foscari per la malversazione invece i casi abbondano sì anche in questo ufficio soprattutto sul lato sinistro va bene evviva afrioporco eccomi solo al fine solo per sogno forse dove te vieni non penetra l'occhio ogni mio detto o gesto il pensiero per fin me ho osservato Leonardo al numero 338 dell'album fotografico dei Mille meraviglioso realizzato da Alessandro Pavia nel 1870 c'è la millesima la millesima che è una donna e quindi direi ed è lì il millesimato si dice no direi che è la prima in realtà perché è l'unica esatto cioè l'unica donna che partecipa alla spedizione dei Mille Rosa Montmasson sì Mille e non più Mille lei era della Savoia della Savoia quindi potremmo dire Rosa Montmasson ma a noi piace italianizzarla perché è un'eroina italiana e perché era ancora nostra la Savoia è vero la Rosa anche se sappiamo che col suo futuro marito che adesso diremo chi è si scrivevano in francese questo già mi fa pensare molto soprattutto al futuro marito va bene lei nasce il 12 gennaio del 1823 nel nostro snobismo avremmo dovuto farla per il 200esimo anniversario l'anno scorso spiazze ma la facciamo oggi era nata vicino a Nessi in Savoia c'è il lago di Nessi un bellissimo posto bellissimo c'è la Sandra la Sandra cos'è? è il Lucio Perca ah ok una bontà ah va bene senti è l'unica donna che parte con Garibaldi nella mitica spedizione del 5 maggio 1860 un altro 5 maggio non è l'unica donna a partecipare all'epopea risorgimentale tra l'altro sai che è stata citata tra le varie donne che hanno fatto il risorgimento dalla Meloni nel suo discorso di insediamento che ha citato anche la famosa Cristina Trivulzio un bel gioioso però lei è sicuramente l'unica dei mille quarta di 5 figli di due contadini appunto della Savoia studia abbastanza ma così quanto basta per saper leggere fare i conti quello che seguiva hai detto niente e dopo la morte della madre lei è costretta a trasferirsi a Torino per fare la stiratrice che cosa accade accade che da quelle parti tra gli altri si trova in esilio il patriote avvocato il masculo in salute di questa vicenda che è un siciliano che si dice anche come invocazione oppure anche come lamento quando ti pestano in piedi dici Crispi Crispi Francesco Crispi che è uno dei giovani che porta a lei ma qua mi viene in mente Madame Sargent sì i solini e le camicie per farle stirare e come accade nelle migliori famiglie dal ferro da stiro si passa nella camera da letto a sì a me è successo le rivelazioni io da piccolo stiravo vitto alloggio lavadura e stiratura e stiratura loro vanno a convivere nel 1850 lui ha cinque anni più di lei ma soprattutto ha già un figlio da una siciliana perché lui era siciliano e la focosa felice bella a un certo punto raggiunge la coppia e parte lo sconquasso tant'è che c'è l'intervento pacificatore delle forze dell'ordine pensa ai torinesi che dicono c'era quel terron sì è curioso come diciamo la figura di Crispi che è una figura molto solida però è in questa vicenda sempre alle prese con degli affari di sottane di pecoreccio diciamolo tant'è che la coppia viene espulsa e per loro questa cosa è providenziale perché i due ne approfittano lui e la momasson prendono il largo e approdano a Malta a Malta c'è un lestofante che poi tornerà utile al Crispi tale Luigi Marchetti un gesuita girovago che era stato interdetto e sospeso a Divinis cioè era proprio chissà cosa aveva combinato per essere interdetto e sospeso a Divinis come budget bonzo e cosa succede? lui li sposa con molta disinvoltura loro vengono espulsi e cosa fanno? riparano a Londra sì dove condividono con altri esuli gli ideali i sogni il ferro da stiro e tutti i progetti di indipendenza nazionale alla fine diciamo che Londra era l'unico posto che accoglieva questi vari rivoluzionari perché tutti gli altri stati vedevano con sospetto ma certo la figura dei Mazziniani e siccome gli inglesi avevano già previsto di dover gestire le BR durante l'assassinio di Moro e di dover fare tutta una serie di altre nefandezze nel nostro paese l'avevano presa alla lontana pronto? sì signor ambasciatore no scherzavamo stavamo scherzando e comunque era Piero Maranghi che si esprimeva in questo modo verso diciamo la grande casa lo chiamavano Leonardo Pordi Leone allora che cosa accade? che Rosa si attiva e dimostra di avere grandi capacità organizzative molto coraggio e di essere molto capace era lei che portava i pantaloni che non si può più dire oggi una frase del genere è sessista però però è lei che si occupa di trasferire le notizie gli ordini le istruzioni ed è molto abile a superare i controlli dei gendarmi e dei doganieri perché si traveste da contadina e mette i documenti pensate la bellezza qua i nostri animali sono un po' tremebondi nella pancia del cappone dell'anatra e come faceva? quando gli hai tolto dentro una volta morti cioè no non da vivi aspettando poi che producano di nuovo nell'uomo il disfarcio di Mazzini senti la sua preziosissima attività di coordinamento delle reti clandestine prosegue anche in un'altra grande capitale dove si trasferiscono a Parigi a Parigi ma non c'era ancora la natura bella no poi vanno a Genova dove lei dimostra una notevole capacità organizzativa in vista del famoso sbarco viaggio e sbarco e giustamente questi la spediscono dove Leonardo? a Messina è una sorta di pallina impazzita a Messina avverte i liberali dell'imminente arrivo di Rosolino Pilo e di Giovanni Corrao poi va a Malta con informazioni e lettere da consegnare a Genova e poi diventa appunto membro della spedizione nonostante la contrarietà sia del Crispi che del Garibaldi soprattutto del Crispi perché Garibaldi in fondo a Garibaldi piacevano le signore certo e Crispi si vergognava un po' perché secondo me quando era in pubblico con lei lei lo sovrastava lo sovrastava e poi Crispi zitto gli diceva io torno in Sicilia con questa ci sono i parenti dell'altra il Crispi è sempre lì allora lei si traveste da uomo salpa sul Piemonte dallo scoglio di Quarto 5 maggio del 1860 quanti sono i giorni di navigazione sono i famosi 6 che è il nuovo che viene dopo 5 esatto e partono da dove? da quarto quindi quarto cinque sei è bellissimo ormai siamo non ce l'ha mai pensato nessuno nessuno questa è la cabala dei Garibaldini no perché è una tale boiata che nessuno c'era mai però all'epoca bisogna pensare che ci si metteva meno in navigazione che per strada con la carrareccia poi c'erano gli stati comunque senti lei è brava sia col fucile che con le bende con le garze e a Calatafimi soccorre i feriti in piena battaglia l'angelo di Calatafimi si guadagna l'appellativo l'angelo di Calatafimi e viene ribattezzata Rosalia Rosalia Soprana Rosalia Sottana senti in Sicilia lei trova altre donne che combattono Jesse White Mario soprannominata Hurricane Jesse e poi Antonia Masanello attenzione che si vestiva da uomo c'è anche Maria Martini dell'attore figlia del generale Salasco quello che aveva firmato l'armistizio tra Piemonte e l'Austria poi ci sono altre donne che non possiamo non citare Lina Marzia quelle che vengono esaltate dallo stesso Garibaldi per il loro coraggio ma certamente lei è una delle eroine di questa vicenda l'ultima volta l'ultima volta undici anni fa a Roma tra Mazzini e me è finita quasi a schiaffi come sta? non lo so non l'ho visto ma vorrei proprio che vi incontraste lo amate molto è vero? certo però amo anche voi strani amori per una suddita della regina Vittoria io sono suddita solo della mia coscienza Leonardo terminata la gloriosa spedizione dice basta riposiamoci no? perché ci sono i plebisciti perché lui Crispi ha un ruolo importantissimo poi ne avrà un altro diventa dittatore anche governatore e lei lo salva però da un tentativo di arresto gridando dalla finestra vogliono arrestare Crispi e scatena la reazione popolare in difesa del marito ma siamo agli ultimi bagliori della loro relazione Crispi mi fa venire in mente Mussolini e ogni volta che fa un salto di potere ne butta fuori una con una crudeltà assoluta perché come sappiamo anche da Mazzini che rimprovererà lei l'ingenuità politica Crispi ha altre cose in testa diventa deputato diventa soprattutto monarchico nel 1861 diventa deputato del Parlamento italiano a Torino noi c'è il famoso discorso la monarchia ci unisce la Repubblica ci dividerebbe e quindi lui porta un diciamo un consistente appoggio socialista alla causa monarchica era nato in Cendiaglio eh sì diventa pompiere e Rosalia Torino non è ben vista perché le aristocratiche la guardano un po' dall'alto in basso la chiamano la lavandaia che ha fatto fortuna invece dov'è che avrà un grande successo a Firenze quando Firenze diventa capitale allora insomma le donne toscane la festeggiano diventa una sorta di regina dei salotti quindi è una donna con una vita intensissima intensissima nel frattempo lui ha frequenti relazioni extraconiugali tutte lo volevano tutte lo volevano c'è la fugace scappatella con Luisa del testa da cui nasce tra l'altro Luigi e sappiamo che c'è anche la sicana la sicana vergine del cardulce del cardulce qua mi viene in mente a Marco il professore la sicana vergine perché Giuseppina è il frutto dell'amore tra Crispi e Filomena Barbagallo che era figlia tra l'altro di un procuratore generale borbonico di cui Crispi si innamora perdutamente non del padre di lei Crispi non lasciava nulla di intentare no diventato monarchico che cosa fa pensa bene di ripudiarla ma come fa dicevano che dove passava Crispi non cresceva più l'erba senti come fa a ripudiarla Leonardo torniamo al gesuita certo Crispi dice quello lì era uno sprettato scomunicato gesuita gesuitico l'atto del nostro matrimonio a Malta non è valido e quindi lui sposa la Barbagallo dichiarando non valido il matrimonio contratto a Malta e pensate la povera Rosalia ripudiata e abbandonata trova la solidarietà della regina Margherita quella del pollo con le dita del pollo con le dita e della pizza della pizza che si rifiutava di stringere in pubblico la mano a Crispi nelle occasioni ufficiali vedi a Rosalia di bassa estrazione e quindi estranea le formalità e ai codici di palazzo non resta che abbandonare il tetto coniugale ci sono delle liti furibonde spese folli abuso di alcol e il 30 dicembre del 1875 scrive all'amico Agostino Bertani firmandosi Rosalia Crispi il 28 cadente alle 11 antemeridiane io sono uscito di casa mia onde non essere più esposta alle sevizie di Francesco Crispi che ora mi rinnega per sua moglie mamma mia la salvano i gatti sì i gatti che però non so se ti salvi no diciamo meglio che niente sì ma finire gattare hai sempre un po' e il ricamo e il ricamo lei muore dopo di lui per fortuna lui era morto nel 1901 dopo il suo tracollo politico lei si spegne nel novembre del 1904 il 10 di novembre per l'esaltezza viene sepolta con la camicia rossa e le sue medaglie e sappiamo che al funerale nascosta in una carrozza col peso degli anni e del cognome assiste alla cerimonia Maria Crispi Caratozzolo che era la sorella maggiore di Francesco quindi c'è una sorta di espiazione familiare un ultimo contributo ma cosa vuoi ancora stai sempre a guardare te no 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 e io vi volevo soltanto chiedere scusa per prima con vostro marito non è che era colpa mia so tirare di spada meglio di lui dovrei rinunciare ad usarla solo perché non ho la barba me la dipingo la barba certo certo vi sta pure bene come ti chiami? Corrado Paternò e voi? Rosalino Masson sei insieme a Pilo? a chi? a Rosalino Pilo il vostro patriota quello che ha raccolto tutti voi volontari siciliani Leonardo alle nostre spalle c'è un libro c'è un deserto che non conoscete ancora è il libro di una trasmissione che non avete mai visto si chiama Almanacco di bellezza quindi iniziamo a sollecitare l'acquisto sì però faccio notare che l'uovo la gallina è spenta è spenta la gallina si spenge e noi ci stiamo spengendo con lei spengendo spengendo con lei spengi la luce Piero però abbiamo un fantastico spettatore dell'Almanacco che vive a Morbegno allora Monsignor un Monsignore Monsignor Giuseppe Longhini arciprete di Morbegno di Morbegno e quindi andiamo tutti a Morbegno a vedere a vedere il santuario dell'Assunta che è un capolavoro del Rinascimento con questa grandiosa Sancona del Maino Gaudenzio Ferrari io invito tutti quelli che vanno in Engadina a fare una sosta lungo il percorso una piccola deviazione e fermarsi a Morbegno ma certo è un luogo di una bellezza assoluta e allora permettimi una dedica molto sentimentale perché noi la visita al santuario dell'Assunta di Morbegno la dedichiamo alla memoria di Marilina e di Mario e la dedichiamo a un'altra M a Marina ci vediamo domani a domani Almanacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simeoni Stefano Puppini Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Niccolò Cazzola e Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Com l'eva Grazie a tutti a presto in building un'altra M permite Grazie.